Anche Gesù Bambino visse la condizione della metà dei profughi di oggi, bambini incolpevoli, vittime delle ingiustizie umane. C'è l'urgenza di fare rete con l'educazione, strada maestra per permettere alle persone di rimettersi in cammino con piena dignità. Così Papa Francesco incontrando gli artisti del concerto di Natale in Vaticano. L'edizione 2018 sostiene due progetti, il primo, che investe sulla formazione professionale dei giovani, è realizzato da missioni Don Bosco in Uganda, mentre il secondo vede la fondazione pontificia Scolas Occurrentes intervenire a Derbile, in Iraq, dove la guerra ha posto una pesante ipoteca sul futuro di un'intera generazione. È possibile sostenere le iniziative inviando un SMS solidale al numero 45530, valido fino al 15 gennaio 2019. Il Natale è sempre nuovo perché ci invita a rinascere nella fede, ad aprirci la speranza, a riaccendere la carità. Quest'anno in particolare ci chiama a riflettere sulla situazione di tanti uomini, donne e bambini del nostro tempo, migranti, profughi, rifugiati, in marcia per fuggire dalle guerre, dalle miserie causate dalle ingiustizie sociali e dai cambiamenti climatici.